Assessore Ripari è arrivato un finanziamento dalla Regione per tutta una serie di attività legate soprattutto alla promozione turistica. Di cosa si tratta? Sì, è un intervento complesso che comprende quattro azioni, tre sono offline e riguardano la realizzazione di una guida di Tortoreto, delle cartine realizzate sia per gli itinerari dentro il comune sia per il territorio provinciale, cercando quindi di coinvolgere e fare sistema con gli altri comuni. E questi sono i due interventi. Poi abbiamo la guida, come ho detto, e in ultimo abbiamo una nuova pagina del portale Vivi Tortoreto che si chiama Accoglienza Vivi Tortoreto che serve a intercettare le prenotazioni di potenziali clienti filtrando le strutture in base alle esigenze che il turista ha, quindi potrà selezionare i servizi di cui ha bisogno e così facendo gli compariranno le strutture che rispondono alle sue esigenze e successivamente potrà inviare loro una richiesta di preventivo. Questi sono quindi quattro interventi per un finanziamento complessivo di 20.000 euro per un progetto che abbiamo realizzato in partnership con la DMC Adriatica che ci permetterà di dare un'accoglienza ancora migliore per i turisti di Tortoreto già dalla stagione 2022. Questa è una fase della programmazione della prossima stagione estiva. Gli ultimi due anni hanno segnato un cambiamento anche nelle abitudini dei turisti per fattori esterni, ma ora come si presenta la stagione 2022? Beh, purtroppo, come tutti sapete, ci troviamo di fronte ad un'altra situazione che potrà influire, se non altro, sugli umori del potenziale turista e mi riferisco naturalmente al contesto geopolitico. Chiaramente, nonostante l'incertezza, noi dobbiamo continuare a intervenire in campo promozionale e quindi metteremo in campo, ripeto, chiedo scusa, una azione a breve che riguarda appunto la promozione online e sulle radio, possibilmente, quindi creando una sinergia anche con gli operatori, per andare a intercettare i flussi turistici nazionali. Nonostante, ripeto, il clima di incertezza che però potrebbe, in ogni caso, influire positivamente sul turismo nazionale. Quindi, in qualche modo, dobbiamo essere pronti a intercettare anche questi flussi e quindi faremo in modo di ricordare al mercato che Tortoreto è pronta ad accogliere quanti più turisti possibili con i suoi vessili, con i suoi servizi e anche con questo nuovo progetto di accoglienza turistica.